La famiglia era molto simpatica e accogliente. Il cibo era a volte buono e a volte non ci è piaciuto molto, perché non eravamo abituati alle cose tipiche. La città invece era molto bella e piena di negozi. La città è bellissima, è veramente una bella città, tranquilla, la sera scuola. Allora, devo dire che questa esperienza è stata molto bella, escludendo il cibo della famiglia che ci ospitava, perché non mi è piaciuto per niente. Sì, abbiamo studiato. Ronde, beh. No, non è bello. Mi sono trovato bene, mi sono divertite, ci sono anche un po' di distanza. Abbiamo interagito molto, ci siamo conosciuti e a vicenda. Il viaggio può essere piuttosto pesante per chi non è potuto fare tantissime ore di corriera o anche di aereo, però una volta preso il ritmo, magari ascoltando un po' di musica ci si può anche rilassare, quindi passa molto velocemente. La cosa più bella è stata quando abbiamo fatto un giro per il centro di Madrid e ci siamo divertiti. per me è stata una bella esperienza, mi sono divertito e sarei stato ancora qualche giorno, mi sono trovato bene in famiglia e anche con i compagni è stata una bella esperienza da rifare. Mi sono trovato bene? Lo sento per la primavera Oggi, non sono mai pubblica, di fare un'iarire. Non si fa bene, non sono anche domate. Perché, anche se deve fare un'iarla, se deve fare un'iarla. Oggi hanno fatto un'iarla di una grida, Non si erano? E' una parola di un'iarla, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.